Le nove proloco della Valle del Velino insieme per il territorio. E' questo il titolo dell'incontro proposto dalla sesta comunità montana del Velino che vedrà riunite tutte le associazioni turistiche di Accumoli, Amatrice, Cittareale, Posta, Borbona, Miciliano, Antrodoco, Borgovelino e Castel Sant'Angelo nella presentazione degli eventi estivi che le vedranno coinvolte. Le proloco che già da alcuni mesi si sono riunite in un tavolo tecnico presso la comunità montana per coordinare insieme strategie di promozione e sinergie comuni presentano per la terza volta un calendario unico. E' il terzo anno che le associazioni turistiche e territoriali organizzano un calendario unico dichiara il presidente della comunità montana del Velino Sergio Pirozzi. In questo modo, continua Pirozzi, con un calendario condiviso l'offerta turistica e culturale estiva potrà essere di più ampio respiro e far conoscere nella sua interezza il territorio dell'Alto Velino.